C'è già un candidato in campo per le prossime elezioni amministrative di Casnigo e Giacomo Aiazzi, 63 anni, consulente in informatica e statistica, oggi libero professionista, correrà per la lista civica nuova proposta, espressione dell'attuale maggioranza. Il sindaco Giuseppe Inberti infatti ha già manifestato l'intenzione di farsi da parte. Aiazzi è stato designato da circa 80 cittadini intervenuti nel corso di un'assemblea convocata al circolo fratellanza dal comitato promotore presieduto da Damiano Bettinaglio. Quello di Aiazzi è stato l'unico nome proposto, su di lui erano infatti confluite le indicazioni dei promotori e di quasi tutti gli amministratori in carica, la designazione avvenuta all'unanimità. Aiazzi, casnighese per parte di madre, ha sempre tenuto rapporti con il suo paese d'origine, dove risiede da un anno e mezzo. Nel corso dell'assemblea ha dichiarato di voler imprimere una svolta all'azione amministrativa, passando da una fase di ascolto ad una di sintesi delle indicazioni provenienti dal territorio.